Buongiorno a tutti. In questo ultimo argomento del corso affronteremo il server-side rendering, quindi come dimenticarci, in un certo senso, della nostra applicazione single page e avere un'applicazione multipage generata e renderizzata interamente dal server. Giusto per recapitolare, questa è l'architettura che abbiamo correntemente. Abbiamo un web server agganciato a un database, che nel nostro caso non è un database server perché è un database su file, ma è comunque un database. Abbiamo questo web server che espone dell'API REST e quindi espone JSON. In aggiunta a questo API REST il nostro server gestisce tutte le altre richieste, tutte le altre URL che un client gli fa avere inviando sempre e solo una pagina HTML che è la nostra index.html. Quindi questo server serve una serie di API REST in formato JSON, inviando e ricevendo informazioni in formato JSON e per tutte le richieste che non sono inerenti all'API REST risponde con una e sempre una pagina HTML. Questa pagina HTML è poi ricevuta dal client, dal browser nel nostro caso, e avrà collegato una serie di file JavaScript che fanno parte di un'applicazione client-side, che fanno parte di un front-end, che si preoccuperà di riempire quella pagina HTML che è molto semplice, molto vuota, con tutte le informazioni che servono. Quindi andrà direttamente l'applicazione client-side a chiamare, a chiedere al server le informazioni e appena avrà le informazioni indietro renderizzerà opportunamente l'applicazione web che gira nel client. Quindi se noi avessimo dieci browser, quindi dieci di questi avremmo dieci copie della nostra applicazione client-side e ognuna di queste dieci copie farebbe una richiesta uguale ovviamente al web server. Spostiamo la logica, noi abbiamo in questo momento la logica della nostra applicazione web tutta all'interno del client e il server ci serve per ricevere dati e, questo è forse parte della logica, anche a gestire la sessione e quindi a gestire il login. Però escluso l'autenticazione, tutto il resto della logica dell'applicazione web, come appare, cosa l'utente può fare, quando può farlo, che ha i dati visualizza, come li visualizza, eccetera, è tutto deciso da questa applicazione client-side che gira all'interno del browser. E come vi ho già detto diverse volte, noi questo possiamo chiamarlo single page application perché il nostro server fornisce una pagina HTML per tutte le richieste, per tutte le URL che ha. E noi nel client, abbiamo visto la settimana scorsa, possiamo simulare un comportamento a molteplici pagine, quindi cambiando le URL del browser e mostrando in base al cambiamento delle URL del browser una pagina, una vista, una composizione diversa dentro il browser grazie al routing che viene fatto client-side. Ma appunto al momento ne abbiamo tutto o quantomeno grossa parte della logica dell'applicazione da questa parte e usiamo il server per ricevere e comunicare le informazioni che ci servono. Un approccio completamente diverso è quello che avevamo chiamato approccio architettura tradizionale, in cui abbiamo sempre il web server, sempre il database e in cui abbiamo sempre il client, ma vedete ho cancellato la client-side app. Perché? Perché nell'approccio tradizionale invece di avere client che renderizza e visualizza e gestisce interamente la logica o quasi interamente la logica dell'applicazione, quindi come queste pagine vengono composte, cosa visualizzano, e il server in questa architettura a fare tutto questo lavoro. Quindi il server di qui non avrà più dell'API REST, non fornirà più solo una pagina HTML al client, ma a ogni URL scritta nel browser il server web preparerà, confezionerà, comporrà una pagina HTML diversa e invierà la pagina HTML pronta per essere vista e per permettere all'utente di interagire con la nostra pagina HTML. Ma saranno appunto pagine diverse, quindi possiamo parlare di un'applicazione web multipagina, dove il multipagine è dovuto al fatto che il server fornisce sempre, tutte le volte, pagine diverse. non fornisce più JSON, non ha più API REST, ha solo una serie di root, esattamente scritte come scrivevamo quelle per le API REST, ma che invece di rispondere con dei file JSON rispondono direttamente componente, creando dei file HTML da passare al browser. Il browser poi potrà avere questo file HTML che verrà passato, potrà avere anche dei collegamenti al CSS o dei file JavaScript, ma tipicamente questi file JavaScript soprattutto sono di entità minore e permettono solo alcune piccole operazioni nella pagina, per esempio l'invio di un form senza dover ricaricare la pagina o la modifica di una piccola porzione della pagina scatenata magari da un click su bottone senza dover ricaricare l'intera pagina per cambiare una riga all'interno di quella pagina. dove ricaricare l'intera pagina vuol dire che il server deve ricreare l'intera pagina e rimandarla indietro a client. Quindi un po' di JavaScript qui c'è, però infinitamente meno rispetto a questo approccio, perché la logica della nostra applicazione che verrà visualizzata è il che cosa verrà visualizzato, il quando, il come, tutte queste informazioni che noi prima decidevamo a livello di client, adesso le decidiamo a livello di server. Cosa ci serve per fare questo cambiamento e quali sono i cambiamenti che in pratica, se volete, dobbiamo fare? Beh, dal nostro punto di vista abbiamo bisogno di Express, esattamente dello stesso Express che già usavamo in passato. Abbiamo bisogno di un'aggiunta ad Express veramente piccola che è un sistema di template, un template engine. Questo sistema di template ci serve per creare, per comporre in maniera dinamica nel server, le pagine HTML. Perché noi non forniremo più una pagina HTML statica precompilata, ma avremo bisogno di fornire una pagina HTML valida, dal punto di vista del browser, per esempio corsi che abbia al suo interno la tabella con tutti i corsi. E se il client chiederà una pagina HTML per gli esami, sarà il server che dovrà creare dinamicamente, andando a leggere dal database, la pagina che contarrà al suo interno la tabella degli esami. Esattamente come adesso il server legge dal database delle informazioni e genera un file JSON da inviare, in quel caso dovrà generare un file HTML. Ma dato che un file HTML, a differenza di un file JSON, è più complesso, perché ha vari elementi, ha l'header, ha l'head, ha il body, ha uno stile CSS agganciato, ha dei tag specifici che uno sviluppatore può scegliere di usare oppure no. Quindi c'è tutta la composizione, c'è tutto il layout della pagina. Cosa che in JSON non c'è, perché è solo scambio di informazioni testuali, allora abbiamo bisogno di un qualcosa che ci aiuti a creare queste pagine HTML in maniera dinamica. E questo è il singolo grosso cambiamento che abbiamo, l'aggiunta di questo sistema di templating. L'altro grosso cambiamento è ovviamente l'approccio. L'ho già detto prima, invece di avere un server REST con un'applicazione front-end che ha un sacco di JavaScript per prendere le informazioni, inviare le informazioni, manipolare il DOM eccetera, noi avremo un server che fa da solo tutto questo lavoro e invierà una pagina HTML già precompilata, già digerita al browser che non dovrà fare nient'altro che visualizzarla. Quindi stiamo spostando la logica, lo ripeto di nuovo, la logica, il carico anche di lavoro dal client al server. E ripeto, questo è l'approccio tradizionale. Prima delle single page application quello che si faceva era questo. Il server faceva il 100% del lavoro e il browser, diciamo così, il server faceva il 95% del lavoro e il browser fa il 5% del lavoro. Con l'approccio che abbiamo noi il server ha il suo lavoro, diciamo il 30-40% e il browser fa tutto il resto. Quindi stiamo riportando, stiamo andando cronologicamente indietro e stiamo riportando alcune cose dal client al server. Esistono poi approcci ibridi, ve l'avevo accennato, per cui è possibile avere una single page application che delega al server alcune operazioni di rendering di pagine. Ma questo è ovviamente complesso, questo è molto moderno, complesso e ha bisogno di un framework per creare single page application che noi non abbiamo utilizzato perché non la stiamo creando appunto a mano. La cosa positiva di questo cambiamento fatto adesso a questo punto è che se noi volessimo, ve lo mostrerò in un esercizio, se noi volessimo passare dalla nostra single page application degli esami a un server, quindi single page application più server rest, a un server che ha interamente la creazione dinamica delle pagine HTML secondo questa architettura, noi possiamo riutilizzare gran parte del codice che abbiamo scritto. Perché alla fine è JavaScript, ci sono delle differenze ovviamente, ma la gran parte del codice che abbiamo scritto lo possiamo riutilizzare. E io vi farò vedere che noi creeremo un esempio di un'applicazione che è appunto multipagina che si renderizza sul server con a fianco il codice che abbiamo sviluppato in passato perché appunto sarà proprio possibile fare copia incolla di diversi elementi per ottenere lo stesso risultato. Perché il codice sarà davvero molto 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 simile. Solo messo in posti diversi e fa cose un po' diverse. Questo cosa vuol dire in pratica? Questo vuol dire in pratica che dobbiamo creare un progetto express. Allora un progetto express possiamo crearlo come l'abbiamo sempre creato, quindi con npm install express. Oppure express ha anche un tool che si può chiamare con npx express generator all'interno di una cartella a vostra scelta che dovrà contenere il progetto che genera uno scheletro di applicazione in questo modo. in cui c'è app.js che è il nostro diciamo server.js, quello che noi abbiamo chiamato server.js, ha il file package, ha un file che si chiama www che serve a lanciare in maniera un pochino più sofisticata di quanto abbiamo fatto noi il server, ha poi una cartella public esattamente come avevamo noi che contiene però questa volta images, javascript e stylesheet, quindi molto più povera rispetto a quello che abbiamo noi e di default vuota se non per il file stylesheet.css. Ha poi una cartella root e una cartella viste. Questa è una delle architetture possibili, quella che questo generatore genera appunto consiglia ma ovviamente uno potrebbe utilizzare moltissime altre strutture di directory. Qual è la novità qui per noi è questo roots e questo view? Questo view sono i file, vedete che hanno un'estensione strana, i file che poi genereranno la pagina html. Questa estensione strana è dovuta al sistema di templating in uso e noi useremo ejs come engine di templating e quindi questi file hanno estensione ejs. Nel browser questo file index.egs sarà inviato e visto come index.html, una volta elaborato dal template engine. Le root sono file singole che separano appunto le varie tipologie di root in base alle risorse. Quindi quelle che noi prima avevamo chiamato slash api slash corsi e slash api slash esami e qui avremo una root che magari si chiama corsi e una root che si chiama esami solo per separare concettualmente una cosa dall'altra. Potevamo già farlo in passato nella nostra single page application per organizzare meglio il codice e qui veniamo invitati a farlo. ovviamente questa divisione delle root in diversi file è possibile farla anche in express, diciamo, senza express generator. Qui, ripeto, veniamo forzati in questa direzione in quanto ci viene creata una cartella root con due file al proprio interno senza questo express generator che vedete appunto ben specifico per queste viste, per creare le pagine html, quindi applicazioni tradizionali e questi file non vengono creati e noi abbiamo scritto tutto nel nostro server .javascript. Ma ripeto, noi possiamo anche in quell'altro caso dividere su più file se vogliamo mantenere file più corti, ben divisi, divisi a componenti e ben riutilizzabili. Dopo aver creato il progetto, al di là di scrivere la logica di cosa farà questa pagina, cosa succederà quando il nostro browser invierà la richiesta a localhost.3000 slash corsi, il server express prenderà quella richiesta, slash corsi farà per esempio una query nel database per ottenere l'elenco dei corsi e risponderà con un template, con una pagina html che si chiama corsi.html per esempio e questa pagina html viene compilata dal template engine che oltre agli elementi statici dell'html, vedete qui ce n'è uno, h2, quindi questo è un header di secondo livello, può contenere al suo interno delle variabili. Quindi quello che succede è che per esempio se noi avessimo una variabile che si chiama user che contiene il nome dell'utente attraverso un sistema di templating potremmo scrivere se la variabile user esiste allora metti nella pagina html risultante l'operazione un header h2 con il nome dell'utente qui dentro e poi chiuder l'header h2. Se l'utente non esiste la pagina html finale non avrà renderizzata al suo interno l'header h2. e noi utilizzeremo come template engine questo ejs che appunto permette di generare pagina html utilizzando direttamente l'html e direttamente javascript all'interno di questo templating. Questo si può installare separatamente con npx generator viene aggiunta come dipendenza se specificata e quindi possiamo avere questi file con all'interno un mix di javascript e html ma non per manipolare il DOM e il javascript. Questa volta il javascript ci serve per aggiungere o rimuovere o unire pezzi di html diversi in modo che il server possa poi generare dopo aver essere passato da questa fase di templating un file html con tutto al suo interno. E come funzionano questi template engine? Questi template engine sono tipicamente abbastanza dichiarativi nel senso che il file js è un file che assomiglia da un file html con i contenuti propri di un file html con alcune volte questi tag particolari minore per cento, maggiore per cento, minore per cento uguale e così via. Questi tag particolari sono quelli che dicono guarda che dicono ad express e al template engine guarda che quello che c'è qui dentro deve essere passato dal template engine deve essere preso da delle variabili messe a disposizione dal server riempite da express e prima di essere renderizzati nella versione finale dell'html. Quali sono i tag di ejs che ejs mette a disposizione? I tag sono questi più importanti, quelli che utilizzeremo più spesso sono il tag semplice, minore per cento, che è un tag di controllo, quindi può ospitare tutti i for, può ospitare gli if, tutte queste informazioni di controllo. Non può stampare a schermo qualcosa, non può riempire come in questo caso, vedete questo è un tag semplice di controllo perché dentro c'è un if. Se noi vogliamo prendere il contenuto di una variabile per inserirla nell'html risultante, dobbiamo utilizzare questo tag qui, minore per cento uguale. Che minore per cento uguale fa l'output del valore della variabile nel template con l'escaping dell'html. Un altro tag interessante è questo, minore per cento meno, che fa l'output del valore non con l'html escaping. Cosa vuol dire? Vuol dire che mentre in questo ci aspettiamo di trovare delle variabili, del contenuto testuale per esempio numerico all'interno di variabili javascript, con questo ci aspettiamo di trovare, possiamo anche trovare delle porzioni di html che a quel punto verranno interpretate come html. E perché è utile questo tag? Perché per esempio ci permette di includere un template all'interno di un altro template. In modo per esempio da avere un unico template che si chiama header, che contiene la nostra navbar in alto, e poi una serie di altri template, uno per pagina, che includono quella navbar. In modo da non dover scrivere una volta per ogni file lo stesso identico markup html della navbar. Ma lo si scrive una volta e lo si include nei vari file che ne hanno bisogno. Quindi è possibile includere un template file in un altro componendo questa pagina come se fosse un puzzle. Quindi c'è il template della navbar che viene inserito in un template più grande e che contiene il resto della pagina, come per esempio fa qui. Qui si include il template header che contiene tutto fino alla navbar, poi c'è un titolo, poi c'è il contenuto della pagina e poi c'è un altro template footer che contiene tutto il resto sotto della pagina. Oppure si può utilizzare, vedete questo è un ul, quindi qui ci aspettiamo degli elementi di tipo li, e questi elementi di tipo li sono fatti con un for each, questo è già la script normale, che per ogni utente all'interno di questo array include questo template che si chiama user show. Questo è il nome su disco del template dove user è la cartella e show il nome del template. Quindi avremo una cartella user slash show.ajs. Quindi questa funzione include qui dentro in questo ur questo template, tante volte tanti quanto ci sono utenti, e passa a questo template la variabile user, in modo che qui dentro per esempio, dato che questo è lo show dello user, quindi il mostrare l'utente, potrà recuperare da questa variabile il nome, il cognome e altre informazioni, la foto e quant'altro per visualizzarla a schermo. Quindi l'include e questo elemento servono per appunto visualizzare del codice HTML, nell'include per includerlo da un altro file, ma se fosse direttamente in una variabile, come nel nostro template literal che abbiamo utilizzato come template nella nostra single page application, questo stamperebbe il contenuto del template literal così com'è. Ma ovviamente questo deve essere in una variabile JavaScript. Se noi vogliamo metterlo in un intero file e includere direttamente il file, possiamo usare la parola chiave include. Ora vediamo questo come funziona e poi nel prossimo video vediamo un esempio un pochino più completo in cui appunto andremo a costruire o commentare la nostra applicazione web server side che farà la stessa cosa della nostra single page application. Allora, come vi dicevo, io ho aperto Visual Studio Code e un browser e possiamo scrivere npx express generator meno v ejs perché vogliamo generare quella cartella con ejs come templating system, quindi meno v come meno vista con la vista di ejs. Senza questo meno v ejs, Express Generator usa il template, un template engine di default che si chiama pug, si scrive pug, che però non utilizza HTML, non utilizza neanche JavaScript, quindi questo ejs soprattutto per i nostri scopi è un pochino più semplice, è un pochino più comodo e soprattutto ci permette di scrivere HTML che per noi, soprattutto se decidete di utilizzare questa metodologia per il progetto dell'esame, ci permette di scrivere HTML che è un requisito, HTML e JavaScript che è un requisito appunto per l'esame. Lo lanciamo, lui, scusate, lui apriamo una cartella, anzi creiamo una cartella, non so, la creo sul desktop, per il momento mkdir, esempio, Express, vado in esempio Express e rilancio il generatore. Allora lui come fa npm ci pensa e crea tutte le cartelle che abbiamo visto. Ora se noi apriamo quella cartella che ho chiamato esempio Express, vediamo che abbiamo le cartelle che vi ho detto, che vi ho mostrato nelle slide. Che cosa hanno? Beh, partiamo dalla prima, dal primo file. Package.json è un package normalissimo in cui possiamo per esempio mettere la versione e cambiare il nome. Package.json ha anche questo start. Questo start serve per far partire il server. Nel senso che invece di scrivere come scrivevamo finora node o nodemon server.javascript, che nel nostro caso è app.javascript, anzi nel nostro caso sarebbe bin www perché quello è il punto di partenza. noi possiamo scrivere npm start. Che non parte, certo, perché dobbiamo installarle tutto. Però vedete, fa quello che farebbe l'applicazione. Questo è un tipico messaggio d'errore di Express quando ha qualche problema. Quindi se noi facciamo npm install, installiamo tutte le dipendenze del package.json e se riproviamo con npm start, vedete che lancia il server. Quindi se noi andiamo su localhost 2.3000, vediamo il nostro server lanciato. Il nostro server che ci mostrerà una pagina, questa che è l'index, che è la stessa che troviamo in questo template index.js. Dove vedete cosa cambia? Che è la stessa se noi spezioniamo l'elemento, o anzi guardiamo il sorgente, vedete che è esattamente uguale. C'è il titolo, c'è il link del stylesheet, poi c'è un body, poi c'è un h1, poi c'è un b. Cosa cambia? Cambia che questo Express è contenuto in questa variabile titolo. Quindi prima di fornire questa pagina al browser, Express, il template engine, rimpiazza title, dato che ha questo tag davanti, con il contenuto della variabile title. Dove prende la variabile title? La variabile title viene presa dalla root. che come vedete è una root scritta esattamente come scrivevamo nel passato. Prima scrivevamo app.get indirizzo funzione, adesso scriviamo router.get indirizzo funzione. E che cosa fa nella funzione? E abbiamo sempre un oggetto richiesta e un oggetto risposta. E per mandare qualcosa al browser usiamo sempre l'oggetto risposta. Solo che in questo caso non mandiamo del json, ma gli diciamo di renderizzare, quindi di creare, di inviare una pagina HTML che si chiama index. Eccola qui. E a cui passiamo questa pagina index una variabile che si chiama titolo e che ha dentro una stringa che si chiama Express. E quindi dovunque nell'index HTML compare titolo, compare title, nel titolo della pagina, nell'h1 e nella stringa, noi otteniamo Express, Express e Welcome to Express. Quindi se noi qui invece di passare Express passassimo metodologie web e salvassimo e facciamo ripartire il server perché non è partito con nodmon e riaggiornassimo questo, vedete che qui c'è sempre metodologie web dappertutto perché abbiamo passato un contenuto diverso a questa variabile alla vista index. Quindi ognuna di queste root è potenzialmente collegata a una di queste viste. Quindi abbiamo la vista, abbiamo la root index collegata alla vista index tramite questa chiamata e abbiamo una vista di errore che semplicemente stampa gli errori. Adesso non so se riesco a generare un errore. Ecco per esempio se noi vi mettete un indirizzo a una porzione di url a caso ottenete l'errore not found 404 e il dettaglio di questo errore. Esattamente come scritto qui, messaggio status stack in formato codice. Se noi per esempio togliamo questo e rilanciamo il server e aggiorniamo questa pagina, vedete che il messaggio d'errore non c'è più perché questo l'abbiamo tolto dal template che lo conteneva. Quindi adesso lo rimetto così ce l'abbiamo come era prima e lo rilanciamo. Poi continuiamo questa panoramica. Cosa c'è in style.css? C'è lo stile di default che poi noi andiamo a togliere perché non ci interessa. E poi questo file ha anche un'altra, questo progetto ha anche un'altra root che si chiama users a cui non è collegato, vedete una vista, non c'è una vista che si chiama nello stesso modo. In questa root user c'è un'altra get su root in cui, sul root relativo ai users, in cui in questo caso risponderà con una risorsa. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi qua scriviamo users ci torna non una pagina HTML ma solo una stringa. In questo caso. Quindi fa un send a questa pagina. Il send è quell'operazione che per esempio il metodo res.json fa in automatico quando si tratta di inviare un json. Perché noi qui abbiamo scritto slash e qui stiamo scrivendo slash user? Perché in app ci sono tutti gli import, c'è il setup del view engine, del template engine come ejs, c'è il logger, c'è express.json, ci sono tutta una serie di middleware che già in parte usavamo. E poi c'è la dichiarazione delle root. La dichiarazione delle root, come vedete, ce ne sono due. C'è la root, c'è express app aggancia alla root slash il router di index, quindi questo, e alla root slash users il la root users.javascript. Quindi quando qui scriviamo slash vuol dire che siamo nella root rispetto a quello che è stato dichiarato in app.javascript. Quindi in app.javascript si chiama users e quindi users slash chiama direttamente questo metodo. Se noi questo lo avessimo chiamato prova, e sempre stoppiamo questo, e a questo punto se noi scriviamo solo users troviamo not found e dobbiamo scrivere users slash prova per avere questa risposta esatta. Quindi app, esattamente app come l'avevamo, con la differenza che noi a un certo punto scrivevamo app.get, app.post, app.quant'altro, e mettevamo come primo argomento il path relativo alla porzione del path, la porzione di url che ci interessava, e qui scrivevamo la funzione che doveva essere eseguita quando raggiungevamo in questo path. Adesso invece mettiamo l'inizio del path, quindi slash oppure slash user, e poi agganciamo un router per gestire tutte queste, quindi per gestire questa root e tutte le root che sono figlie, che sono inserite all'interno di questo. Così come qui per users, inseriamo users e poi dentro user root definiamo cosa c'è in user slash qualcosa. Quindi nella root di user, ma anche in tutti i suoi figli sotto users. Questo ci dà solo, era possibile ovviamente farlo come facevamo prima, solo che quando ce ne sono tante, questo ci dà la possibilità, ci dà più flessibilità, e ci dà la possibilità di mettere diversi router in diverse url senza dover andare a cambiare il contenuto della root. Nel senso che se noi questo decidessimo di chiamarlo utenti, per esempio, e qui dentro avessimo 50 get, non dovremmo cambiare una virgola. Mentre se noi avessimo, come abbiamo fatto con la rest server, 50 get direttamente in app, tutte che iniziano con slash utenti, slash qualcosa, avremmo dovuto cambiare 50 volte utenti. Ripeto, questa metodologia è applicabile anche col server rest. Sono modi alternativi di fare la stessa cosa. Quindi anche nel nostro server rest noi potremmo avere un file dentro una cartella roots che si chiama come vogliamo noi, strutturato in questo modo, con tutte le get di quella risorsa rest, e di qui scrivere solo app.use, la root, l'elemento di root, e la router, e il router che vogliamo chiamare. Quindi questo si chiama router perché, vedete, include questo express.router. Dopo le root ci sono le root di default. Quindi dopo aver deciso cosa succede quando si scrive localhost 3000 slash e localhost 3000 users, ci sono le root d'errore. Quindi cosa succede quando non c'è un match con nessuna di queste due, e con i loro, diciamo, figli. E quindi se scriviamo, come abbiamo fatto prima, localhost slash qwe. Dato che non è né definita qui, né definita come users, né una root esplicita di index, allora viene chiamato questa funzione, che è equivalente a scrivere così, è equivalente a scrivere così, e viene poi di conseguenza chiamato l'error handler, che è questo, che è quello che gestisce l'errore. Questa app, vedete, finisce con un export, non ha un run del server. Il run del server è dentro questo file www, che è un file che non è da cambiare, a meno che non si cambi tipo il nome della cartella, o il nome del progetto, che non fa altro che decidere la porta, settare la porta da cui il server deve partire, creare il server e fare il listener del server. E poi ha qualche funzione di utilità per normalizzare la porta, ma sono cose che praticamente non, si possono anche non toccare, se non appunto uno non volesse cambiare la porta, o cambiare il nome da indicare qui nel debug. Quindi questo è sempre express, strutturato in maniera molto simile al solito, solo che ha questo templating in più. Nel prossimo video guarderemo invece un esercizio che ricrea la nostra applicazione, la nostra single page application, in questa nuova modalità.